Ancora verifiche sui viadotti autostradali. La concessionaria strada dei parchi comunica che per urgente attività di monitoraggio e verifiche tecniche sul viadotto di Popoli, posto sulla tratta dell'autostrada 25 tra gli svincoli di Prato-La Peligna e Bussi Popoli, dal 21 al 24 maggio sarà disposto sulla carreggiata est direzione Pescara 14 dell'autostrada 25 tra gli svincoli di Prato-La Peligna e Bussi Popoli il diveto di transito ai pullman e mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Conseguentemente nei giorni indicati per i pullman e mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti dalla 24 a Vezzano e diretti verso Pescara alla 14 sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Prato-La Peligna. In considerazione della concomitante interdizione d'ingresso in autostrada 25 presso lo svincolo di Bussi Popoli sarà possibile usufruire dello svincolo di Torre dei Passeri per entrare in autostrada 25 e proseguire sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria seguendo le indicazioni per Popoli.